Questa sera a NostiV parliamo del ritorno di Miss Italia a Jesolo, della Festa della Repubblica a Portogruaro, dell'inaugurazione del Museo della Bonifica di San Donato di Piave e di molto altro ancora. Buonasera e bentornati con un nuovo appuntamento del notiziario di NostiV. Il ponte del Corpus Domini inaugura ufficialmente la stagione balneare 2018 in tutte le località della costa adriatica. Le spiagge saranno infatti interessate dall'arrivo, oltre che dei pendolari del weekend, anche dei turisti austriaci e tedeschi particolarmente vicini a questa festività. Per le città costiere sarà dunque il primo banco di prova per entrare poi a pieno regime dopo la fine dell'anno scolastico la prossima settimana. Traffico intenso sulle autostrade sia oggi che domani. Il tempo sarà per fortuna bello con temperature anche vicine ai 30 gradi. Aspettiamo le loro proposte e poi decidiamo. Con queste parole il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia è tornato sul tema relativo all'eventuale presenza dell'evento Miss Italia sul litorale, previsto per il prossimo mese di settembre. Ci siederemo al tavolo con gli organizzatori, ha detto Zoggia, per capire come valorizzare al massimo questo concorso, che resta una vetrina importante. Anche per quest'anno, inoltre, il sindaco della città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, parteciperà alla realizzazione. È il segnale che c'è attenzione da parte del territorio. Per noi è un motivo di orgoglio perché Venezia rappresenta un brand mondiale, una città che sa valorizzare le bellezze d'arte come nessun'altra. È chiaro che per l'anniversario degli 80 anni di Miss Italia vogliamo avere un ruolo importante. A Jesolo, isola pedonale in sicurezza per tutta la stagione estiva 2018. Da lunedì inizia il posizionamento in 12 punti della barriera Jersey. Isola pedonale in sicurezza a Jesolo per tutta la stagione estiva 2018. Da lunedì, infatti, inizierà il posizionamento in 12 punti sensibili individuati nella zona traffico limitato delle cosiddette barriere Jersey, ossia blocchi di calcestruzzo che hanno lo scopo di rallentare la corsa dei veicoli. L'introduzione delle misure fa seguito alle linee guida della circolare ministeriale Morcone dello scorso anno in materia di safety and security e si pongono l'obiettivo di garantire la sicurezza di quei contesti in cui sia previsto un forte assembramento di persone. La necessità di proteggere l'isola pedonale che si estende per diversi chilometri lungo le strade del Lido di Jesolo è emersa in occasione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica avvenuto nei mesi scorsi in prefettura a Venezia. L'operazione sarà condotta dalla società Jesolo Patrimonio e sarà completata nell'arco di qualche giorno. Il Parco Coaffollie di Caorle ha comunicato l'ampliamento della Fisherman's Bay, l'attrazione 2017 ispirata al porto veneziano con l'aggiunta di una nuova tematizzazione con elementi di ghiaccio, neve, pupazzi di neve nell'area dello scivolo Blue Tube. L'ospite potrà così viaggiare dall'Adriatico al Polo Nord tra tuffi, schizzi e giochi di onde al ritmo delle hit dell'estate. La novità è stata comunicata in occasione della giornata di apertura del parco avvenuta oggi. Acquafollie sarà aperto fino al 9 settembre. Primo weekend di giugno ricco di manifestazioni a Caorle. Da non perdere il campionato italiano di giochi da tavolo ed il primo spettacolo pirotecnico dell'estate sulla piaggia della Saceta. Scopriamo tutti gli eventi in programma nel servizio. Giochi da tavolo, calcio giovanile, fuochi d'artificio, vele e motori. Il primo weekend di giugno offre ai turisti di Caorle una serie di eventi di assoluto richiamo. Nel centro civico di Piazza Vescovado si svolgerà la Big Con, tappa del campionato italiano di giochi da tavolo organizzata dall'associazione I Cavalieri della Tavola Gioconda, che impegnerà i migliori board gamers italiani sabato e domenica. Da oggi a domenica, inoltre, negli stadi Chigiato e Romiatti, si svolgerà il torneo internazionale di calcio giovanile Summer Village Cup. Sabato sera alle 21 i giovani calciatori sfileranno per le vie del centro storico per raggiungere Piazza Vescovado dove saranno presentate le squadre. Al termine della cerimonia, tutti con il naso all'insù per assistere allo spettacolo pirotecnico sui cieli della spiaggia di Levante. Sempre sabato alle 19.30 in Piazza Matteotti saranno premiati i vincitori delle due regate d'altura, la 200 e la 500, mentre ad una verde, alle ore 18, si potrà assistere al corteo delle moto Harley Davidson che sfileranno per le vie della frazione. Non dimenticare, infine, che oggi apre i battenti il Parco Acquatico Acquafollie per la stagione 2018. In occasione della celebrazione della Festa della Repubblica, in programma domani, a Portogruaro, dalle 7, sarà vietata la circolazione e la sosta in Piazza San Tommaso dei Battuti, per riservare gli stalli ai veicoli delle forze e dell'ordine. Nelle città sulle rive dell'Emene è prevista, infatti, la classica manifestazione in onore della Repubblica Italiana. Dalle 7 è vietata la sosta anche nel tratto di Corso Martiri della Libertà tra la Torre di San Giovanni e via Pio X. Dalle 9 sarà interdetta anche la circolazione nel medesimo tratto e in Borgo San Giovanni. Riapertura al pubblico domani pomeriggio alle 17 del Museo della Bonifica di San Donà. All'interno della struttura saranno esposti gli studi per il nuovo logo realizzato dagli studenti dell'Istituto Volterra e i calchi della medaglia commemorativa di Ancillotto del maestro Francesco Stefan, donati al museo dal circolo filatelico numismatico sandonatese e destinati alla sezione bellica. Alle 17.30 è inoltre in programma la visita guidata alla sezione bellica dedicata alla Grande Guerra a cura dell'Associazione Storico-Culturale Il Piave 1915-1918. Alle 18.30 esibizione del coro polifonico Voci in Volo. Infine alle 19 presentazione e proiezione del cortometraggio La Divisa, prodotto da Giffoni Experience e realizzato con gli studenti del Sandonà Giffoni Movie Days. A Chiesa Nuova, frazione di Sandonà di Piave, è stata ripristinata in questi giorni l'illuminazione pubblica dopo alcuni giorni di lavoro con la sostituzione di un lungo tratto di cavo elettrico. L'intervento è stato reso difficoltoso da un inconveniente inaspettato. Alcuni pozzetti con tombino in ghisa, che servono proprio per poter intervenire in caso di guasto, erano stati coperti di asfalto in occasione di precedenti restauri. Solo una volta trovato e riaperto uno dei pozzetti è stato possibile intervenire, risolvendo anche alcune infiltrazioni d'acqua nell'impianto. Questi interventi di manutenzione straordinaria dovrebbero risolvere definitivamente i problemi di sospensione dell'illuminazione. La Cantina dei Talenti di Sandonà di Piave è ufficialmente di proprietà del Comune. È infatti stato firmato l'irogito con la Cantina Sociale che porta all'acquisizione da parte del Comune dello storico edificio realizzato nel 1932 in Via Pralungo, cardine della Porta del Nord. Mettendo quindi un punto fermo sul percorso che nell'arco del 2018 darà avvio ai lavori per concludersi nel 2020, proiettando Sandonà come hub fondamentale in ottica della città metropolitana. L'edificio tra i più significativi esempi di architettura industriale del territorio attualmente degradato diventerà un contenitore di funzioni relative all'agroalimentare, ma anche all'innovazione, al co-working e agli eventi. Importante riconoscimento per Sandonà di Piave, che anche per il prossimo biennio 2018-2019 potrà freggiarsi del titolo di Città che legge. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Sandonà di Piave si conferma Città che legge. Anche per il biennio 2018-2019 la città si potrà freggiare dell'ambito titolo, assegnato solo a 441 dei quasi 8.000 comuni italiani, tra essi per l'appunto Sandonà di Piave, che ottiene per la seconda volta tale prestigioso riconoscimento dalla Centro per il Libro e la Lettura, istituito dal MIBACT, il Ministero dei Beni Culturali. Sandonà si è candidata con le attività di promozione del libro e della lettura della Biblioteca Civica della Casa del Bambino, che costantemente nel corso dell'anno dai più piccoli agli adulti offrono un'ampia offerta culturale. Il sistema bibliotecario sandonatese conta infatti più di 60.000 volumi, di cui circa un terzo per ragazzi, circa 1.000 DVD, 6.000 pezzi del deposito legale, 500 audiolibri per non vedenti, 600 CD. Organizza attività, fra cui il Festival della Poesia in altri versi, il laboratorio di scrittura poetica, appena concluso, il corso di filosofia o le letture dei bambini agli anziani della Casa di Riposo. L'associazione annonese Noi ci siamo, insieme si può, ha donato alla Biblioteca del Comune i libri donati nel corso dell'evento Bambinando in Fiera, svoltosi lo scorso mese di aprile. La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia alla presenza del sindaco Ada Toffolon. Altri libri verranno donati nei prossimi giorni alla Biblioteca Scolastica. Domenica mattina, a Cinto Cao Maggiore, dalle 8 alle 10.30, l'Avis Provinciale provvederà ad effettuare la raccolta sangue. I donatori potranno recarsi, come sempre, nella sede di Via Roma 80. Martedì 5 giugno, a Pramaggiore, alle 20.45, nella Sala Riunioni del Centro Civico, in Piazza Libertà 48 e in programma un incontro con Beppino Englero e Pierluigi di Piazza, coautori del libro Vivere e Morire con Dignità. L'ingresso è libero. E questa era la nostra ultima notizia. Al prossimo appuntamento del notiziario di NostiV lunedì 4 giugno. NostiV lunedì 4 giugno, a Cinto Cao Maggiore,